Oggi in Regione Incontro sulla questione delle fiammate al centro olio di Vigiano l'esito nessuno sforamento dei limiti di legge ma allarmanti picchi di emissioni di gas ed Eni, dice l'assessore, è in ritardo nella consegna di studi sull'impianto il servizio di Stefano Di Agostini Vanno restando che i limiti, così come ha asserito l'ARPAB, sono rimasti sempre sotto soglia però ci sono stati dei picchi in termini di aree e di rumore che ci preoccupano per poter analizzare nel dettaglio queste questioni è chiaro che mangano degli studi che ci doveva fornire Eni rispetto agli impianti che ritardano ad arrivare Il tema dell'incontro, le recenti fiammate al centro olio di Vigiano tre in soli cinque giorni, accompagnate da rumore, vibrazioni e cattivo odore dunque nessuno sforamento dei limiti di legge ma preoccupanti picchi di emissione di gas Il 9 settembre, dati ARPAB, gli idrocarburi non metanici hanno raggiunto il massimo orario di 2400 microgrammi per metro cubo un valore circa 20 volte superiore rispetto ai giorni precedenti È possibile, così come abbiamo ricordato all'Eni e ribadito che da inizio dell'anno si sono verificate cinque fenomeni di questo fatto quindi abbiamo chiesto anche di fornirci il loro piano di investimenti sia in termini di manutenzione ordinaria che manutenzione straordinaria Fin incontro la delegazione di Eni non ha rilasciato dichiarazioni ma nei giorni scorsi la compagnia ha affermato che il centroolio ha sempre operato in sicurezza Secondo Eni le tre fiammate sono da attribuire la prima un problema al sistema elettrico la seconda al blocco di un compressore la terza a un'anomalia elettrico strumentale A breve ci saranno nuovi tavoli tra Eni e ARPAB per approfondire le questioni tecniche L'obiettivo è evitare nuovi problemi e nuove fiammate in futuro i cittadini della Val d'Agri attendono risposte